Nuova udienza questa mattina nel Tribunale di Torino per il processo sulla presunta truffa nella costruzione del porto turistico d'Imperia. Le prossime udienze già fissate saranno il 13 e il 20 febbraio e come quella di oggi saranno dedicate alle arringhe dei difensori degli imputati. Stamani ha parlato per due ore l'avvocato Nerio Diodà, difensore di Francesco Bellavista Caltagirone, che ha ribadito l'inesistenza di qualsiasi truffa nella costruzione del nuovo bacino imperiese e sostenuto quindi la correttezza della sentenza di primo grado che aveva assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Oltre a Diodà stamani ha tenuto la sua ringa anche l'avvocato Matteo Calori, difensore di Andrea Gotti Lega, uno degli amministratori di Acquamare, la società del gruppo di Caltagirone che era incaricata della costruzione del porto. A questo punto la sentenza di appello sulla vicenda del porto d'Imperia potrebbe giungere entro la fine di febbraio o al più tardi ai primi di marzo.